Salve a tutti ragazzi, sono Bionics e siamo nel secondo video di sopravvivenza e mentre si è fatta notte, quindi... vabbè, possiamo pure iniziare, dai Siamo rimassi con 24 pezzi di legno dovremmo farci una casa, ma con 24 non so quanto iniziamo a riprendere un po' di legno così ci faremo la casa per sopravvivere e mentre se avete notato mentre facevo l'intro laggiù ci dovrebbe essere un lago di lava mi è sembrato solo non lo vedo più sarà solo una mia impressione facciamo altra legna lo prendiamo, abbiamo già 48 pezzi va bene la casa ce la faremo qui qua va bene ok, iniziamo facendo le prime mura e magari facendoci due porte con la crafting però qua ci sarà l'angolo il primo angolo della casa dove ci metteremo la crafting ci facciamo due porte e mentre ho buttato un pezzo di legno via no, non serve farlo così però se non i pei ne puoi buttare ok mettiamo il legno l'ho lasciato qua ok magari qua iniziano le porte mettiamo una e due con tutta serva però è difficile costruire vi sfido a mettere di nuovo 500 pollici in su per questo video non chiedo troppo perché siamo ancora all'inizio del mio canale quindi non vi chiedo troppo per adesso e mentre il caso sta già premendo forma ma il legno non basta mentre devo vedere qua di quanto sono andato 1 2 3 facciamo così 1 2 3 4 5 6 7 e 8 invece di quanto sono andato 1 2 3 4 5 6 7 e 8 e ci sono rimasti 7 pezzi di legno ma in realtà 8 perché ce n'abbiamo ancora qua ragazzi quanto pare si scava ancora legno e non cado 8 8 8 8 9 10 12 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 19 18 19 19 21 22 23 23 23 23 24 23 24 24 24 25 25 26 26 27 28 28 28 28 28 29 29 29 32 32 32 4, 5, 6, 7 e 8, tanto poi ragazzi faremo il pavimento, adesso qua chiudo, qua ci sono 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 e 8. Dovremmo essere perfettamente lineati, adesso taglio un attimo il video e finisco qua la casa. Ok ragazzi ho fatto tutte le mura, poi nel prossimo episodio faremo anche il tetto ma vi devo dire ciao a tutti e alla prossima!